Come cazzo è che ci siamo incastrati così? C'è davanti e dietro perfetti proprio. Incredibile. Solcando i mari fin dalla beta del gioco, ho incontrato praticamente ogni tipologia di pirata. Questo mi ha fatto capire che in un gioco di forte cooperazione come Sea of Thieves, c'è bisogno di un linguaggio comune per partire con un po' di coordinazione in più. Ho deciso quindi di creare questa guida, lo spiegone dei termini nautici fondamentali per capirsi subito in Sea of Thieves. Partiamo dalle parti interagibili della nave. Le vele. Issare significa alzare, ma dobbiamo tener conto però che le vele in Sea of Thieves si muovono in senso opposto a quelle moderne. Quindi issare più che alzare lo si intende come spiegare. Spiegare le vele significa aprirle. Ammainare, il contrario di issare, lo useremo quindi quando vogliamo chiudere le vele. Ho sentito un sacco di gente pensare che il pennone sia la punta dell'albero, ma in realtà i pennoni sono le parti semovibili che usiamo per angolare le vele. Il termine poppa definisce il dietro della nave. Quando diciamo vento in poppa, quindi, il vento spinge da dietro verso avanti. Prua, contrario alla poppa, intende il muso della nave. Tribordo, è il lato destro della nave. Babordo, opposto al tribordo, il lato sinistro della nave. Prendendo ad esempio un galeone, la nave più completa, le parti che troviamo in Sea of Thieves sono Il castello di poppa, che è la parte rialzata dove si trova il timone. Il castello di prua, la parte rialzata dove si trovano gli arpioni. Il ponte, superficie su cui si trova la maggioranza delle cime, delle vele e ovviamente i cannoni. Secondo ponte, il piano sotto dove si trovano cucina, mappa e forzieri. La sentina, la parte inferiore dello scafo interno, dove si trova la cella per farci capire meglio. Il giardinetto, balcone esterno agli alloggi del capitano. La coffa, poggiolo in cima all'albero di maestra. Albero di maestra, l'albero con più vele, di solito in mezzo alla nave. Albero di trinchetto, l'albero verso la prua della nave. Albero di mezzana, controintuitivamente, non è quello in mezzo. Ma è quello a poppa della nave. Queste erano le terminologie base per capirsi subito in Sea of Thieves. Andate e diffondete il verbo, solcando i mari da veri pirati. Se il video ti è piaciuto, iscriviti al canale, lascia un like, condividilo con i tuoi amici. Io sono VapingBed93 e ci vediamo al prossimo video. Vi auguro 20 favorevoli. Io sono VapingBed93 e ci vediamo al prossimo video.